E' evidente che si è sempre parlato di percentuali di gravidanza sul trattamento fatto. Noi sappiamo che quando facciamo un trattamento, trasferiamo oggi uno o due embrioni, la riproduzione ci dice che una coppia deve avere una gravidanza entro un anno, quindi entro 12 mesi di tentativi, quindi tendenzialmente dopo aver provato a formare 12 embrioni, quindi aspettarsi di avere per forza un risultato 30, 40, 50, 80% facendo un trattamento è un qualcosa che è poco vicino alla normalità, alla fisiologia, quindi le coppia se ce la facessero dovrebbero smettere di pensare a ho fatto un trattamento, un transfer, due transfer, dovrebbero ragionare sugli embrioni che sono riusciti a trasferire, perché noi cerchiamo solo di simulare quello che avviene normalmente durante un anno, è difficile, difficilissimo, perché è evidente che il ciclo di trattamento comporta andare dal medico e nessuno ama andare dal medico. Ma poi è una cosa molto delicata, molto individuale, molto soggettivo, ogni ora vive in un modo diverso, però questo è importante perché aiuta a capire cosa si sta facendo e che cosa si dovrebbe fare. Grazie a tutti.